L'Aggiunta ha approvato il bando di gara per il vio di gestore che verrà realizzato a Ponticelli ed è un passaggio fondamentale per l'igiene della città perché significa economia, perché risparmieremo circa 100 euro a tonnellata nella gestione del rifiuto organico, significa pulizia per la città, significa porta a porta sulla sesta municipalità come ci è stato richiesto dal Consiglio Comunale, potenziamento delle risorse su quella municipalità che accoglierà questa nuova struttura, significa un passo avanti fondamentale perché la città non può avere un'azienda che si occupa soltanto della raccolta e dello smistamento dei rifiuti ma deve inserirsi nel ciclo integrato che è la richiesta europea per poter stare al passo con le nuove tecnologie.